Questa dieta molecolare, ce la vuoi di spiegare in sintesi di che cosa strana? Innanzitutto ti riprendo perché io rifiuto il concetto di dieta, perché il concetto di dieta è un concetto da gossip, da chiacchiericcio e non da scienza. La dieta noi la concepiamo come un periodo temporale, quindi io la faccio per 10 giorni, 15 giorni, un mese, mangio in una certa maniera, recupero 2-3 chili e poi che faccio? Se continui a mangiare come prima, voltiamo pagina, cominciamo a parlare di alimentazione consapevole, l'alimentazione consapevole è il filiale di questa manca che porta ogni giorno il cibo dal piatto alla bocca, mangiamo 2-3 chili di cibo al giorno, noi costruiamo ogni giorno il nostro corpo con il cibo, non si mangia certo per dimagrire, questo è il gossip che io rifiuto in maniera drastica e in maniera netta, mi scuso con te Fabrizio, però bisogna anche guardare un orizzonte scientifico, se a voi vi chiedessi oggi quanto avete mangiato in una giornata, quanto cibo avete mangiato? Quanto cibo mangiato in una giornata? Probabilmente nessuno risponderebbe, ma si mangia da 2-3 chili di cibo tra cibo solido e cibo liquido, questo cibo entra dentro il nostro intestino e il nostro intestino non è sempre preparato ad accogliere il cibo che prendiamo, è un orizzonte molto affaticato, noi mangiamo in una società basata prevalentemente sulla farina, pensate quanti alimenti infatti con la farina mangiamo dalla mattina alla sera, i fetti biscottati, i biscotti, la pizza, la pasta, i prodotti da forno, il pane, tutti i dolci, queste farine sono fatte per il 70% da grani di varietà moderna, cioè i grani piccoli, quelli bassi, i grani nani, questi grani nani sono molto ricchi di proteine e in particolare di glutenina e di gliadina che nell'impasto con l'acqua diventano glutine, se le malattie dell'intestino e gli disturbi intestinali aumentano ci dobbiamo porre il problema perché questo succede? E se compiudiamo ancora a parlare di calorie e di calorie, noi siamo fuori strada, cioè la conoscenza scientifica genera la consapevolezza e la consapevolezza genera la libertà di guidare questa mano. Io posso rifiutare tutte le cose che dice, i prodotti che ha detto Pogazzi Giuseppe, però io devo conoscere, e il gossip appartiene ormai a un secolo fa, il mondo è cambiato, bisogna andare avanti, c'è un grande cambiamento nella scienza dell'alimentazione e basare tutto sul dimagrire un chilo, sulla dietina, come ho sempre sentito, io mi rifiuto come medico e come uomo. Bene, questa mi sembra meglio stare, perché la gente poi mangia il pane bianco e poi va in farmacia e compra la trusca, no? Quindi, allora, Pierluigi, l'abbiamo accennato, siamo arrivati all'alimentazione consapevole di tipo molecolare, però vogliamo che tu ce la spieghi un po' meglio. Quanti anni ha lei signora? Ecco, quale signora? Tre, tre, due. Quanti anni ha? Cinque, quattro? Io ho 67 anni, noi mangiamo il cibo ogni giorno per costruire il nostro corpo, se io qui ci metto un pezzo di pane, questo pezzo di pane è fatto di carboidrati, di proteine, di vitamine, di acqua, però questo pezzo di pane che sta sopra al tavolo è uguale per me, per lei e per tutti quanti. Poi questa mano che porta il pezzo di pane dal piatto qui dal tavolo alla bocca entra dentro di noi e trova un corpo l'uno diverso dall'altro. Allora, secondo voi è più importante il cibo che sul tavolo è uguale per tutti o il corpo che ognuno ha il suo? Da dove si inizia nel rapporto con il cibo? Dal corpo o dal cibo? Questo è il disfunzionario, è esattamente l'opposto del gossip che noi sopportiamo, sopportiamo infinitivamente ogni giorno da ogni parte sia nella stampa sia nella televisione. Ma per mantenere sempre il contatto con lei, tutti quanti noi abbiamo cinque litri di sangue in questo momento qui e questi litri di sangue vengono mandati avanti dal cuore che è una pompa. Questa pompa cuore che ci tiene in vita, che batte 60-70 battiti al minuto, 60-70 battiti al minuto per tutta la nostra vita, l'energia e il cuore da dove la trova? Dal calore come se fosse una caldaia, come se fosse una macchina, come se fosse un locomotore o questo cuore trae energia da un'energia chimica che si chiama adenosine fripostana? Se il nostro cuore, il mio e il vostro cuore utilizzasse il calore per vivere, il cuore brucierebbe. Siamo nel 2016 e ancora queste cose si crede che il corpo umano viaggia attraverso le calorie. Se noi utilizzassimo il calore brucieremo tutti. Se non riusciamo a capire questo, noi non siamo liberi di mangiare, siamo manorati dal magico. La libertà nasce dalla conoscenza e la conoscenza, se non c'è, e l'ignoranza è intesa come non conoscenza, crea malattia. Io sono un medico di 67 anni, ho 42 anni di attività professionale e so sempre più convinto che la salute sta nel piatto quotidiano, che il cibo ogni giorno costruisce il nostro corpo e condiziona la longevità. Sto studiando in questo momento la genomica nutrizionale, cioè come le molecole contenute nei cibi possono agire sul nostro DNA. Siamo nei primi secondi di un mondo post-genomico che durerà secoli e nessuno sa niente. Perché io devo pagare un canone della RAI per sentire ancora i cibi colleghi che si spacciano come scienziati? 30 calorie, 50 calorie, 100 calorie. Le calorie non esistono nel corpo umano. Esistono le molecole che sono entrate attraverso la respirazione e attraverso il cibo. Anche perché prendere, che ne so, mille calorie da un pezzo di torto, prendere mille calorie dal pane oppure dalla carne è completamente diverso, insomma, no? Assolutamente, assolutamente. Se per esempio il ferro, noi tutti qui abbiamo 4 grammi di ferro, solo 4 grammi di ferro. E se non c'è il ferro si va in anemia, si va in debolezza, si va in asteria. Il ferro, secondo voi, brucia, dà valore, dà energia, brucia, non brucia, non brucia. Noi mangiamo cibo che non può bruciare, siamo macchina idrogena. La mia sofferenza intima e profonda, cerco in tutte le maniere, anche attraverso Facebook, per aiutare tutte le persone a comprendere quanta importanza sia l'alimentazione, è quello di riuscire a portare le novità scientifiche che sono ormai completamente accettate verso la diffusione, la partecipazione, la conoscenza. Un altro aspetto che vorrei sottolineare come elemento fortemente innovativo è il cervello. Noi pensiamo che il cervello si rimanga stabile, si vive anche 100 anni, si potrà vivere anche di più, però bisogna vedere la qualità. Io sto studiando in questo momento, oltre alla genomica nutrizionale, il rapporto tra il cibo e il DNA, sto studiando l'effetto che il cibo ha sul nostro cervello. Noi sappiamo tutto sul colesterolo, sul fegato, sul cuore, ma il cervello è un organo plastico e che se non è nutrito sufficientemente, i neuroni cerebrali non riescono a creare la plasticità cerebrale. E si va incontro alla demenza. Signori, questo è davanti a noi. Se noi non riusciamo a conoscere questo, noi potremmo vivere anche 100 anni, ma la qualità della vita, la qualità degli anni dipende dalla capacità del cervello. E poi permettetemi un'ultima affermazione, che il cervello è fatto di materia e tutte le nostre reazioni, la memoria sono proteine, il nostro cervello è fatto di materia, però è una materia che trascende la materia e va verso la spiritualità. La spiritualità sta nella biologia, cioè il cervello è in grado di andare oltre la sua materia e creare il pensiero, l'amore, la poesia, la musica, cioè qualche cosa che va al di là della spiritualità. della materialità, quindi il viaggio dalla materialità alla spiritualità passa attraverso il cervello. La religione è una storicizzazione della spiritualità. E quando sento dire, mangio questo, perché questo è 10 calorie, voi capite come mi sento. Grazie. 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 Che latte è? Ma il latte deve avere un animale di razza tradizionale al pascolo spontaneo con l'invita che viene munto immediatamente e ritrasformato, non che parte col camion dalla Germania e viene in Italia, viene in Italia al nord ma anche fino in Puglia arriva nel camion dell'A. Certo, mangiamo male e mangiamo male per colpa nostra, perché siamo ignoranti, perché si ritiene di essere defurbatore. Si mangia la bistecca, un biscotto mi disse un giorno al ristorante che abbiamo la Fiorentina, ho la squadra qua, facciamo la Fiorentina. Ah bene, mi fate della bistecca, ma questo è sciarolè. La Fiorentina si fa con la pianina, che ha una forma del tutto diversa di bistecca nei confronti degli altri. Quando, colpa mia, feci tanta pubblicità agli zolfini, gli zolfini venivano coltivati anche a Lucca, in zona enrico, tant'è vero che giustamente Slow Food torse il presidio agli zolfini. E oggi chi vuol mangiare i zolfini, devi mangiare quei libri, i due indirizzi che sono lì e di prospero che è lì. Ok, allora io vorrei chiudere, ringraziandovi intanto che siete stati federali, con una cosa molto bella che abbiamo scritto oggi sul Tirreno, e credo che sia molto importante, abbiamo lanciato la proposta di legge di Gazzini oraiuti, che sarebbe quella di obbligare i supermercati a tenere uno spazio grande con i prodotti locali. All'interno di questo spazio avete una persona che spiega i prodotti, perché se puoi scegliere, puoi scegliere, ma in questo caso non si può scegliere perché non si trovano i prodotti. Ora, questo qua e là avviene in maniera molto saltuaria, sporadica, invece con una legge ben precisa, avere un 15% dello spazio della grande disposizione a disposizione dei piccoli è meglio per i uomini, per i vecchi un 8%, però noi speriamo che questa proposta di legge passi. Io ringrazio i miei ospiti, è successo di tutto, sono arrivati nell'antimafia, con le scorte, poi ha piovuto, io voglio un bene dell'anima, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, ciao.